Ben trovati al generale Gaeta di Enna, è il giorno del big match, la formazione di Mr. Pippo Strano ospita la capolista Agragas di Mr. Terranova, due formazioni divise da quattro punti in classifica, l'Enna però ha una gara ancora da recuperare, lo farà l'8 dicembre contro il Casteldaccia, oggi l'esame più duro, quello del gigante, reduce dalla vittoria per 3 a 1 contro il Cus Palermo, vittoria nell'ultimo turno anche per l'Enna, 1 a 2 a Marineo, terna arbitrale tutta ragusana al fischietto, Lorenzo Armeni, assistenti Arturo Astellini e Giuseppe Saracino, le immagini di Enzo Fallica per il firme del primo tempo, subito l'Agragas al sedicesimo, Pavisic lavora bene il pallone per Scozzari che va alla conclusione in bocca a Caruso 29esimo, Arcidiagono prova la finta, poi il triangolo con Cochimano, riesce bene, Arcidiagono dentro, la sfiora soltanto Ivan Agudiak, poi la carambola non è fortunosa per Caroni, a minuto 33, ancora Agudiak protagonista in area di rigore, resiste la prima carica, poi va al dribbling, riesce a saltare due avversari a Agudiak, la posizione è defilata, la spara alta, in un primo tempo non è ricco di occasioni, si chiudono le ostilità al 46esimo, quando Arcidiagono con questo mancino prova la conclusione ampiamente fuori portata, termina così il primo tempo al generale Gaeta, Redi Bianche, in questa sentita sfida tra Enna e Agragas, si parte con la ripresa, al 58esimo cerca la scossa, mister Pippo Strano dentro Prestia, fuori Caronia, 63esimo, rimessa laterale per l'Agragas, il pallone finisce in area, c'è una prima deviazione, una seconda, lo cascia in acrobazia, per poco non ci scappa l'Eurogole della formazione ospite, 71esimo, ancora Agragas pericolosa con Mansur che rientra verso il destro e sfiora, il palo il possibile, 0 a 1, minuto 72, esordio per Davide Cariodo in casa Enna, fuori Cocimano, 73esimo, l'azione parte dalla metà campo, Agudiak per Prestia, di prima su Cariodo, la gira a sinistra dove cerci Diagono, 1 contro 1 dell'ex Messina, vale a sinistro, conclusione sul palo, lì c'è Agudiak, il tap in vincente, quello che vale, l'1 a 0 dell'Enna, terzo gol consecutivo per Ivan Agudiak, dopo la doppietta di Marineo, questa è pesantissima, la rete che sblocca il risultato contro la capolista Agragas, 74esimo risponde la formazione di mister Terranova, imbucata di Semenzin per Vitello che non riesce a pareggiarla, 77esimo di Dio per Strano, 86esimo, ancora un cambio per l'Enna, dentro Nicosia, fuori Arcidiagono, 88esimo, ci riprova in ripartenza la compagine giallo-verde, qui Prestia, con questo intervento di fatti fa l'assist ad Agudiak che resiste alla carica, prova ad aprirla per sessa, chiude la difesa dell'Agragas, non c'è più tempo al generale Gaeta, vittoria fondamentale in questo campionato dell'Enna contro l'Agragas, nel segno di Ivan Agudiak, formazione di mister Pippo Strano che con un'eventuale vittoria con il Casteldaccia può andare a meno 1. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!